Critica se non addirittura drammatica la situazione relativa agli investimenti in Abruzzo nei primi sei mesi del 2015. Meno del 20% delle aziende li ha posti in essere, solo il 10 li prevede per i prossimi sei mesi. E quanto emerge dall'indagine semestrale di Confindustria Abruzzo, secondo cui se in Italia e in Europa si vedono alcuni segnali di seppur contenuta ripresa, a livello regionale si registra una diffusa stabilità degli indicatori. In questo contesto resta significativo il pericolo di deindustrializzazione. L'indagine è stata presentata nel corso di un incontro cui hanno preso parte, tra gli altri, il leader degli industriali abruzzesi Agostino Ballone, l'assessore regionale alla programmazione economica Silvio Paolucci e il presidente emerito di Regione Abruzzo Gianni Chiodi. Dall'indagine emerge che se indicatori quali l'utilizzo della capacità produttiva, il fatturato, l'export sono in linea di massima stabili, gli investimenti sono stati effettuati solo dal 20% delle imprese. Tra i settori più in crisi vi sono quello degli alimentari e delle bevande, quello del legno e dei mobili, quello metalmeccanico, quello dei prefabbricati e dei prodotti per l'edilizia con cifre oscillanti fra il meno 10 ed il meno 20%. Per quanto riguarda l'edilizia, dati negativi anche sul fronte del fatturato in diminuzione così come accade per il settore di vetro e ceramica. Per quanto riguarda le previsioni sui parametri produttivi e commerciali del secondo semestre, secondo gli intervistati resteranno stabili l'utilizzo della capacità produttiva, il fatturato e l'export. Anche in questo caso le criticità riguardano gli investimenti che saranno effettuati da meno del 10% delle aziende. A livello territoriale i dati relativi agli investimenti sono negativi un po' ovunque, mentre gli altri indicatori di produzione e commerciali sono tendenzialmente stabili. Per l'Aquila e Teramo a Pescara si registra invece un orientamento alla diminuzione per quanto riguarda l'utilizzo della capacità produttiva e il fatturato, a Chieti al contrario l'orientamento predominante all'aumento.